Siamo con Jan Kosamernik, MVP del match Ravenna-Allianz-Milano 1-3, un match che chiaramente ci aspettavamo fosse così, quindi sia Allianz che con San Ravenna hanno approfittato per fare degli esperimenti, comunque qualcosa di buono si è visto, credo anche da parte vostra, con tanti cambi, entrambe le squadre sfrutteranno il momento per recuperare la migliore condizione per il vostro scontro contro Verona, come è andata questa sera? Sì, io sono contento, abbiamo sfruttato questa partita qua per provare un po' di nuove cose, soprattutto mettere dentro anche la nostra panchina, che secondo me è molto lunga e ci servirebbe anche poi per dopo, allora niente, è stata una bella prova per finire il regular season, che per noi è stato difficile come per tutti, siamo ripresi e adesso secondo me stiamo andando molto bene, sono contento, abbiamo vinto come ci abbiamo immaginato e andiamo molto forte avanti. Tanti giovani in campo anche per Ravenna che ha avuto la scelta di far giocare praticamente tutto il sestetto della panchina, riuscendo nella fase centrale del match a tenere anche la partita in equilibrio. Cosa ti aspetti dal match con Verona? Chiaramente avete un po' di tempo per prepararla, come anche Ravenna, match duro comunque, gli ottavi di finale presentano un avversario che punta molto anche Verona su questa finale di stagione. È vero, sì, questo è un formato un po' cambiato, non siamo abituati a farlo così, però io sono contento, più partite è importante per noi stare in ritmo e questa partita contro Verona sarà molto molto importante, comunque sono i tavi di finale, iniziano i playoff e per questo puntiamo tutta la stagione. Vediamo, secondo me questi dieci giorni di un po' di recupero, riposo, lo prendiamo e poi dobbiamo stare al massimo e far vedere la nostra forma.